Buongiorno e benvenuti ai nostri telespettatori a questa nuova puntata di Legal Corner. Parliamo oggi di una tematica cruciale nell'ambito della giustizia penale, ovvero i rischi che derivano dalla rappresentazione mediatica o comunque dalla spettacolarizzazione dei processi penali sugli organi di stampa. Chiaramente parliamo dei rischi che derivano per le parti in causa. Citiamo un famoso film dell'inizio degli anni 70 che è Sbatti il mostro in prima pagina e che per chi l'ha visto rende bene l'idea degli effetti che possono derivare da una rappresentazione da parte degli organi di stampa di imputati che effettivamente o comunque di notizie non veritiere. Rischi che esistevano chiaramente negli anni 70 con un accesso limitato a determinati organi chiaramente non da parte di tutti e che a maggior ragione a distanza di 50 anni nell'era dei social network sono chiaramente esponenzialmente aumentati. Ma il punto è come è possibile per gli imputati tutelarsi dalla diffusione di notizie non veritiere e che tipo di rimedi si possono proporre anche proprio a livello legislativo. Di questa tematica parleremo con l'ospite di oggi che ci ha raggiunto qui in studio e che vi presento l'avvocato Alessandro Vallese dello studio legale Crippa Vallese. Buongiorno e benvenuto avvocato. Buongiorno grazie. Ecco io ho fatto questo preambolo anche insomma piuttosto semplificato e le chiedo anzitutto appunto se ci può descrivere questa situazione perché in Italia come sappiamo stiamo assistendo a una via via sempre più diciamo così pericolosa tra virgolette deriva sulla spettacolarizzazione dei processi penali. Ce ne parli un po'. Allora di principio io devo riconoscere che non sono contrario a una diffusione mediatica di ciò che avviene nei processi non fosse altro perché tutto considerato ci sono degli ordinamenti senza bisogno di andare molto lontano ad esempio in Francia dove la legge sulla stampa che è una legge che risale al 1888 vieta dall'apertura del dibattimento qualunque forma di ripresa di videoregistrazione o di audio diffusione del processo quindi provate immaginarvi no? Se ci fosse un imputato o una persona offesa che vengono letteralmente sbeffeggiati all'interno dell'aula nessuno lo saprebbe e quindi si creerebbe una sorta di governo totalmente autocno nella magistratura all'interno dell'aula quasi un posto impenetrabile quindi non sono affatto contrario di per sé in linea di principio a questo anzi grazie a Dio abbiamo un comma 1 dell'articolo 21 della Costituzione che non pone nessun limite all'informazione. Il problema a mio avviso attiene a quando invece il messaggio che viene trasferito all'esterno non è propriamente un messaggio corrispondente a quello che avviene nel processo, a quello che avviene sulle carte, questo secondo me è il problema reale, cioè quando a tutti i costi un fatto processuale per diventare notizia smette di essere processuale e assume altri contorni, altre vesti, non so le provo a fare un esempio, supponiamo che ci sia un caso di violenza sessuale nei confronti di più vittime da parte dello stesso soggetto. Magari la lettura delle carte processuali consentirebbe di comprendere che un racconto è un po' vago, un altro a propria volta si limita a riferire il racconto fornito da un'altra vittima e in un altro una vittima arriva ad accusare un terzo soggetto che non è l'imputato e in un quarto ancora non si capisce esattamente cosa sia avvenuto. Supponiamo che un giornalista crei una notizia, la notizia quale sarebbe? Che è stato arrestato una persona che magari ha compiuto questi quattro episodi e compare in sovrimpressione un episodio in cui se uno va a leggere le carte magari la vittima accusa un terzo soggetto. L'informazione di per sé non è falsa, ma il messaggio nel suo complesso che ne deriva non è veritiero. Diciamo decontestualizzata. È decontestualizzata, però è così che diventa una notizia, perché chiaramente non è una notizia se uno pubblica dei verbali dove vengono fuori delle notizie poco chiare piuttosto che delle informazioni poco nitide, poco univoche. E quindi a questo punto il vero problema che mi porrei non è tanto come vengono diffusi i dati processuali, quando i dati processuali sono veritieri, ma come viene diffuso un certo messaggio quando il messaggio nel suo complesso non è veritiero. Poi è chiaro che c'è un'esigenza anche di riservatezza. Io non lo metto in discussione. Già nel 2006 il garante per la privacy aveva invitato tutti gli organi e tutti gli ordini professionali dei giornalisti a limitare l'accesso alle intercettazioni, il caso era riferito evidentemente a Teleconservia, a limitare l'accesso alle intercettazioni a quanto potesse essere strettamente necessario ed essenziale per l'interesse pubblico alla notizia, in conformità a quello che è previsto anche dal codice notologico dei giornalisti. Il punto è che in un caso del genere io stesso come avvocato nel momento in cui difendessi un ipotato direi come facciamo a affermare che non ci sia un interesse pubblico alla notizia? Evidentemente l'interesse pubblico c'è. Diverso è quando invece questa scriminante che è legittimissima viene invocata per diffondere un messaggio che invece non corrisponde alle risultanze processuali, ma non tanto appunto dicevo nel singolo passaggio, perché sarebbe veramente da sciocchi pubblicare un qualcosa che non è veritiero. Io non escludo che qualcuno lo faccia, però sarebbe un po' da sciocchi. Invece la realtà è che il messaggio nel suo complesso non è veritiero, perché questo purtroppo capita e è capitato e io credo che purtroppo di fronte a questo genere di comportamenti l'ordinamento attuale non consenta un rimedio reale. È previsto sulla carta magari, ma in concreto no. Che poi lo ricordiamo è un rimedio doppio che deriva sia dal codice deontologico sia dal codice di procedura penale per quanto riguarda i giornalisti. Sì, sì assolutamente. Dal punto di vista deontologico chiaramente si pone un problema di un illecito disciplinare e qui dipende dalla sensibilità del singolo giornalista, nel senso che c'è il giornalista che è più o meno convinto della propria causa e quindi più o meno disposto ad accettare il rischio di un procedimento disciplinare, delle conseguenze che ne possono derivare, come invece può dipendere anche dal punto di vista penalistico dal rischio che è disposto ad accettare l'imputato. Perché nell'ordinamento italiano c'è un grosso, diciamo così, anello che fa da spartiacque. Dentro l'anello, che si chiama segreto di indagine, in teoria qualunque divulgazione è vietata. Perché dico in teoria? Perché poi appunto vale l'interesse pubblico alla notizia, che è una scriminante, diciamo noi legulei. E quindi questa necessariamente è ancor più valida, ancor più invocabile quando il fatto è nella sua astratezza illecito, cioè viene divulgato in pendenza del segreto di indagine. Per esempio si divulgano intercettazioni o sommarie informazioni o querele o atti di una perquisizione che ancora soggiace a un segreto di indagine perché non c'è stata quella che viene definita la disclosure nei confronti della difesa. Una volta cessato il segreto di indagine tendenzialmente è libera la circolazione delle informazioni. Il vero tema in questo caso è accettare il rischio previsto però pur sempre dal codice penale, che è un codice che risale agli anni 30. Quindi esattamente non era un codice, diciamo così, informato alla presunzione di innocenza. Allora una persona imputata che vede che i fatti che lo vedono imputato sono distorti o maneggiati o travisati o magari fedelmente riportati ovunque. Se è sulla stampa c'è l'aggravante dell'articolo 13 della stampa, se è sulle piattaforme sociali, su Facebook, su Instagram, su TikTok, su LinkedIn, c'è semplicemente l'aggravante del fatto determinato. Questo determina una sensibile differenza di pena perché nel primo caso si arriva fino a sei anni e si passa dall'udienza preliminare, nel secondo caso la competenza del tribunale in composizione monocratica, il che significa tempi più lunghi perché il tribunale in composizione monocratica con la citazione diretta nei grossi fori è particolarmente intasato. In questi casi cosa deve fare l'imputato? Va dall'avvocato e dice io ho deciso di fare querela. Quando è che può fare querela? A mio avviso la può fare o quando gli viene attribuito un fatto obiettivamente inveritiero, esempio che dicevo prima, il giornalista o comunque il soggetto che pubblica in maniera, a mio avviso un po' ingenua, un fatto che nelle carte proprio non c'è. E allora in quel caso, scusate la parola, ma una menzogna bella e buona, però non mi è mai capitato onestamente di vederlo così. Viceversa c'è il caso in cui i fatti siano astrettamente veritieri ma nel loro complesso dia un'immagine diversa e quindi forniscano un messaggio mediatico diverso. Una strumentalizzazione diciamo. Esattamente, esattamente. Allora in questi casi la Cassazione già da anni che afferma che il giornalista è responsabile di diffamazione quando in qualche modo assume una posizione totalmente aprioristica, gli ha concesso di manifestare un'opinione e ci mancherebbe non fosse così, intendiamoci. Però assume una posizione totalmente aprioristica, totalmente ingiustificata a favore, per esempio, dell'accusa. Che sia pubblica, che sia privata, parte civile, cambia poco. Cioè il concetto è che si pone in una situazione in cui fa dell'innocente un colpevole, antelittera. In questi casi effettivamente per la Cassazione abbastanza costante si parla di diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato e quindi aggravata e aggravata dal mezzo della stampa, se è il caso, quindi televisione piuttosto che giornali. Perché? Perché il giornalista in effetti tra i suoi doveri è quello di verificare la fonte e quindi nel momento in cui palesa di non averlo fatto perché assume un atteggiamento di parte a sua volta altrettanto palese, per la Cassazione si configura una diffamazione. E però per quel fatto c'è un soggetto che è imputato, è accusato e quindi è prevista dal codice penale, uso un termine un po' ruborante, l'excepcio veritatis, che altro non vuol dire che il giornalista che verrà identificato un giorno insieme al suo editore per omesso controllo, articolo 57 bis del codice penale, perché sostanzialmente ha diffuso un messaggio in cui ha preso anzitempo le parti facendo dell'accusato un colpevole, innanzitutto farà due cose chiaramente. La prima è quella di ribaltare contro l'accusato la reazione contro il giornalista, perché di base qualunque reazione viene letta come un tentativo di imbavagliare, in qualche modo di condizionare, di costringere colui che si fa portavoce di un'opinione. Se in molti casi ciò è vero, in altri non lo è e tuttavia la reazione è la medesima, motivo per cui spesso suggerisco di non chiedere le rettifiche sulla stampa, benché previste dalla legge stampa, perché poi si traducono in un ulteriore aggravamento, appesantimento della notizia, un ulteriore commento, un ulteriore espressione di opinione. E la seconda cosa sarà chiedere al giudice di accertare la verità di ciò che è stato affermato dal giornalista, perché in effetti così è previsto dal codice penale. E supponiamo che nell'emore quell'imputato, per ragioni di convenienza, per ragioni di costi, per qualunque motivo, patteggi, o chieda un rito alternativo, perché in caso di condanna ci sono delle pene molto elevate e quindi è una questione di coscienza cercare di ridurle in qualche modo. Che effetto farà questo sulla querela sporta contro il giornalista? Sarà un boomerang due, tre volte più efficace contro l'imputato stesso che non la notizia. Adesso poi, a fine 2021, è stata recepita una direttiva del 2016 su quella che è la rappresentazione appunto come colpevole di un indagato o di un imputato, da parte però soltanto delle autorità pubbliche. Tant'è che interviene sulla legge del 2006, su un decreto legislativo del 2006, generativo al riassetto dell'ufficio al pubblico ministero, in particolare i rapporti con la stampa dell'ufficio al pubblico ministero e della polizia giudiziaria delegata all'ufficio al pubblico ministero e poi in generale si rivolge ai giudici. Ribadisce un fatto ai limiti dell'obbio, cioè che è vietato sostanzialmente, fatto di vieto alle autorità pubbliche però ho precisato, di rappresentare la persona sottoposta in indagine o l'imputato come colpevole prima di una sentenza definitiva e poi naturalmente afferma che il giudice che viene investito di una richiesta, la cui decisione non è una decisione sull'accertamento della responsabilità dell'imputato, però comunque implica una valutazione degli elementi di indagine piuttosto degli elementi di prova deve limitarsi, così si esprime la norma e così si esprime la direttiva, deve limitarsi a fare dell'indagato e a ditarlo sulla base di questi elementi nei limiti strettamente necessari al provvedimento che gli ha richiesto, cioè quindi il più possibile senza esprimere giudizi personali direbbero i miei colleghi dotti ultronei, diciamo secondo me il termine giusto sarebbe ridondanti o intimi sulla persona dell'accusato, ora, quindi l'accusato sostanzialmente si trova tra due fuochi, l'accusa e insomma la rappresentazione mediatica della stessa e non ha strumenti per difendersi, tendenzialmente no, ci sarebbe la correzione però lei faccia finta di essere, tocchiamo ferro, faccia finta di essere un imputato che è sottoposto a una misura coercitiva e il giudice che magari è chiamato tra qualche tempo e mettono una sentenza scrive, rigetta una richiesta di revoca della misura, le parlo di uno dei tanti casi che mi sono già successi, affermando che sostanzialmente il dibattimento è andato benissimo, le prove sembrano andate tutto nel migliore dei modi e tuttavia il collegio si esprime nel senso di affermare che i fatti sono molto gravi, non si può escludere la pericolosità dell'imputato e quindi si denota una capacità criminale fuori dal comune, capacità criminale fuori dal comune, allora vero o non vero che sia, l'imputato da che cosa è dannaggiato? Perché poi è su questo che bisogna ragionare, perché poi bisogna cercare di medesimarsi, non troppo possibilmente nei propri assistiti, da che cosa è pregiudicato? Da fatto che un collegio che sta per emettere una sentenza di fatto gli sta dicendo guarda che secondo me sei un criminale o dal fatto che lo scriva secondo me sei un criminale? Evidentemente l'imputato è più preoccupato a mio avviso del primo aspetto che non del secondo. Il secondo a mio avviso invece riguarderebbe e dovrebbe riguardare le parti private, non l'autorità pubblica. So che sembra che dico una bestialità, però mentre l'autorità pubblica comunque è obbligata a prendere una decisione e ci mancherebbe solo non fosse tale e da questo punto di vista a mio avviso bisogna essere un po' tolleranti nell'espressione di opinioni personali da parte dei giudici, perché tutto sommato a tutti noi è concesso di esprimere opinioni personali, non trovo una ragione costituzionale per limitarlo in capo a un magistrato, che deve esprimere l'opinione delle opinioni, chiamata sentenza. Anzi è talmente istituzionalizzata che la sentenza proprio per sua natura è un'opinione. Il punto è quando invece una parte privata, perché magari ha un amico, una conoscenza, un'entratura con la stampa, con un giornalista, con un autore, in qualche modo chiede un favore, un aiuto per diffondere un messaggio perché è insoddisfatta di come la cosa viene gestita a livello giudiziario. In questo caso questa normativa del 2021 non è applicabile, perché c'è proprio scritto che è fatto di vieto alle autorità pubbliche e le parti private possono fare quello che vogliono con la presunzione di innocenza altrui? Io ho capito l'esigenza di imparzialità, terzietà, legalità, tutto quello che si vuole della parte pubblica. Ok, va bene, ci sto, ma la parte privata può fare quello che vuole? Cioè io o lei, siccome io o lei ci stiamo antipatici, se io o lei siamo indagati in un procedimento, io o lei possiamo andare ad un nostro amico giornalista a dirgli guarda che questo ha fatto così, 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 così e il giornalista può dire siccome lo conosco so che uno per bene starà dicendo la verità? Non c'è tanto mi verrebbe da dire. Direi proprio di no. Avvocato, quali rimedi propone lei? Se non mi cacciate via. Se ce ne sono. Se non mi cacciate via, sì, no, io ne proporrei uno. Io ho tutte queste norme che si preoccupano di conciliare appunto diversi aspetti, la riservatezza, la privacy, il segreto indagio. Io onestamente, dal punto di vista dell'applicazione del diritto all'informazione, ne le abrogherei tutte. Perché la realtà è che si verifica quello che spesso accade quando si ha l'esigenza, perché è tra comprensibile, di voler disciplinare tutto. Rimane sempre fuori qualcosa, è impossibile. La realtà è che una volta che abbiamo una norma costituzionale che va persino al di là della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, incredibilmente considerato che la nostra è una Costituzione di compromesso del 48. E però l'articolo 21,1 ha una singolare rassomiglianza con il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti di due secoli e mezzo prima. Non si possono porre limiti al diritto all'informazione. Perfetto, sacro santo. Perché non prevedere invece la libertà per le parti di rivolgersi al giudice di fronte a cui si sta svolgendo un processo? Poi noi oggi diciamo penale, ma anche civile. Perché non un processo su una separazione particolarmente spettacolare per i soggetti coinvolti, piuttosto che un processo dove si discute della disponibilità di diritti personali? È un tema molto attuale, quello della disponibilità del fine vita, delle cure. Allora, perché non consentire alle parti di chiedere al giudice, documentandolo e comprovandolo chiaramente, semplicemente di chiedergli di in un certo qual modo interdire o comunque limitare l'accesso delle parti o la comunicazione delle parti relative ai fatti processuali, su qualunque piattaforma, giornalistica o no, meglio sarebbe addirittura quella non giornalistica perché lì veramente non c'è controllo, perché l'uso che viene fatto è un uso strumentale che infine nuoce all'immagine delle parti, nuoce persino, diciamo così alle volte, la delicatezza della materia che si sta trattando. Non dico necessariamente condizionare il giudice perché da noi buona parte degli affari giudiziari è assegnata a dei giudici toccati, i quali molto più di noi avvocati ne vedono talmente tanti tutti i giorni, che se sono condizionati da qualcosa o da qualcuno sono condizionati più da se stessi, che non dall'ambiente esterno, perché ce n'è troppo di ambiente esterno a cui fanno l'abitudine professionalmente. Però, insomma, in un caso in cui una persona si trova magari in un'area di provincia, a vivere la propria vita, a sentirsi sotto gli occhi di tutti, perché quella è la notizia che viene diffusa, è questo il messaggio a dare. Io cercherei di essere più liberistico da questo punto di vista, lasciando sì l'ampia libertà di stampa, ma anche libertà alle parti, se lo richiedono e se lo documentano, di vincolarla nel loro interesse. Stare a evitare invece derive di rango pubblicistico, perché sebbene ne comprenda le origini, le trovo poco efficaci e poco credibili all'atto concreto, e poi poco fruibili anche dalla singola parte, che poi va dall'avvocato e se va dall'avvocato Vallese, l'avvocato gli deve dire innanzitutto quali sono le controindicazioni e a quel punto gli passa la voglia. No, poi, avvocato lo sappiamo, prima c'era il problema dell'audience, per cui la notizia deve essere spettacolarizzata. Adesso c'è la questione dei click, dei like, eccetera, eccetera. Si è passati appunto, ho fatto l'esempio degli anni 70, sbatti il mostro in prima pagina, però poi si è arrivati a Tangentopoli, che ha aperto le porte alla stampa, alla televisione, e si è arrivati ad adesso con appunto i fenomeni dei social network, che purtroppo possono essere deleteri. Magari se assistesse quotidianamente a una di quelle storiche liti tra dottor Di Pietro e avvocato Spazzali, che si vedeva quando io ero ancora all'inizio della ragioneria, all'epoca. No, adesso capita di vedere così, un processo, e nel bel mezzo a discussione, magari un servizio in cui si dice «Ah, è stato chiesto questo, è stato chiesto quest'altro, è gravissimo» e quant'altro, senza nessun riferimento reale, ha delle risultanze. Cioè, questo secondo me è l'aspetto più grave, perché non tutti sono casi eccellenti, il grosso sono casi comuni, che possono capitare a chiunque. Ecco perché secondo me, per esempio, questa norma sul fatto che sia vietato alle autorità pubbliche rappresentare l'indagato, l'imputato come colpevole, per me è incostituzionale, perché non deve essere vietato alle autorità pubbliche, deve essere vietato a chiunque, non solo alle autorità pubbliche. Poi le dirò, probabilmente il giorno in cui, e io spero non arrivi troppo tardi, verrà varato nel nostro ordinamento un sistema di giustizia riparativa efficace, soddisfacente, forse questo problema si porrà meno, meno, perché è auspicabile che i progetti a cui si sta lavorando, ormai da tanto tempo sotto il profilo della giustizia riparativa, trovi un ingresso efficace, io auspico anche preventivo sull'accesso alla giustizia penale, perché la giustizia penale purtroppo è intasata, è ingolfata i suoi problemi e ha delle regole che difficilmente oggi si accetta, si hanno rispettate. Le regole sull'assunzione delle prove, le regole sul contraddittorio, le regole sulla credibilità. C'è una credibilità in aula, c'è una credibilità nella vita comune, nella vita quotidiana. Sono due cose completamente diverse. Il vero anello di raccordo potrebbe essere una giustizia riparativa che si ponga come sostituto della giustizia penale. Probabilmente questo lo vedremmo meno se ci fosse. E quando ci sarà? Io spero che ci sarà, confido che ci sia poi. Insomma siamo nella stagione delle riforme. Questa sarebbe una riforma seria, questa sarebbe una riforma molto seria. Bene, avvocato, abbiamo terminato il nostro tempo, ne riparleremo chiaramente di questo argomento, ma intanto la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a lei. Avvocato Alessandro Vallese, dello studio legale Cripa Vallese. Grazie anche ai nostri telespettatori. Appuntamento alla prossima puntata di Legal Corner. Grazie a tutti.